E' vero, per le piccole e medie imprese è molto importante fare in modo che la legislazione sia fatta bene e che supporti effettivamente questo settore. Questo settore è importantissimo per il Paese ed è proprio qui che si può fare veramente molto. Il Governo continua purtroppo a trascurare questo settore importante. Si può fare molto sia come commercialisti cercando di operare nella maniera più seria possibile e sia come imprese per cercare di presentare progetti effettivamente concreti e non cercando di camuffarli. Questa è un po' l'accusa che viene rivolta dalle amministrazioni e spesso si fa un po' di tutta l'erba un fascio e quindi questo poi si vede come di recente è successo e spesso poi il Governo tende a minimizzare l'importanza di sostenere le piccole e medie imprese in particolare sulla ricerca. Grazie.